Sì, sicuramente è un sequestro abbastanza unico per questa zona, è un sequestro di un carico in transito sicuramente. 40 chili di cocaina stipati in un serbatoio di un tir, un maxi sequestro ad opera dei carabinieri di Gorizia che hanno fermato un camion nella notte tra sabato e domenica al confine di Sant'Andrea, ora aperto solo per i frontisti e per alcuni traffici commerciali. L'autista, un 46enne sloveno, è un autotrasportatore gravato però da numerosi precedenti. E proprio mentre stavano controllando una macchina hanno visto transitare questo camion ed era assolutamente anomalo come transito. Per cui appena finito il controllo che avevano già intrapreso l'hanno deciso di seguirlo, raggiungendolo dopo qualche chilometro e fermandolo in prossimità della barriera di Villesse. Insospettiti i militari hanno proseguito con l'ispezione verificando anche la presenza di autocertificazione in ottemperanza alle norme anti-covid-19 e per capire quali fossero i motivi di transito di un mezzo pesante che sembrava completamente vuoto. Era poco giustificata la sua presenza questo transito e hanno deciso di approfondire meglio i controlli per vedere se in altri vani o da qualche altra parte sul camion potesse esserci occultata qualche cosa di illecito. E infatti la sorpresa è arrivata con 36 panetti di cocaina chiaramente destinati allo spaccio in tutto il paese se non anche in altre zone d'Europa. I proventi che si sarebbero ricavati dalla vendita sono stati calcolati intorno ai 10 milioni di euro. Il 46enne sloveno è stato arrestato e ora si trova al carcere di Gorizia. Effettivamente durante questi controlli si è scoperto che un serbatoio aveva un rumore decisamente diverso rispetto all'altro che era pieno di gasolio. Aveva anche applicata una specie di botola di ispezione che non c'era sull'altro serbatoio e riusciti ad aprire questa botola hanno trovato delle borse contenenti panetti di sospetta sostanza stupefacente. A quel punto hanno subito contattato il nucleo investigativo, l'organo investigativo superiore perché si sono resi conto della complessità della situazione che sono arrivati nel giro di pochissimo e hanno iniziato a sviluppare gli accertamenti che hanno portato all'arresto del conducente, al sequestro del camion e della sostanza stupefacente. Ovviamente adesso sono tutti gli accertamenti da sviluppare per capire bene la provenienza della sostanza e la sua destinazione che verosimilmente non è l'area della provincia di Gorizia e probabilmente neppure l'area della regione Friuli Venezia Giulia.